Questa praticamente si fa una crema inglese con il cuoio e il zucchero, lo sciroppo di cappucco e il latte e la panna. Aggiungiamo la gelatina in forno e il cioccolato bianco, portiamo i 30 gradi e mettiamo la panna semimontata. Poi adagiamo sopra le venite, le venite sono sempre fatte per lo sciroppo. Mettiamo la semisfera di cioccolato bianco, questa invece è una ganache fatta con cioccolato all'alte e panna in proporzione al colace. Fatto un vietto, classe. A proposito di cioccolato bianco, chi volesse rimanere alle 3, c'è il cartello dello chef e ho portato il cioccolato bianco per farvi assaggiare. Così mi hanno portato un po' di storia del cioccolato bianco e è vero anche sapere che non era così. E come il mio piace alla cooking glass faremo una cassata sicilobab, chiamata sicilobab, perché ovviamente ho utilizzato tutti i prodotti dell'alocantia. faremo quanti da panna e non ci vediamo con l'altine, di conta del parco di Felicino, due ovviamente del parco di Felicino, del parco di Spagna e un po' di crema frissacchio. Allora, questa parte. Quindi la sciatina che sarà presentata una po' la corteccia dell'alto. Se volete passare domande potete fare rapidamente. che intanto mi concentro sulla creazione. Questi colori, sì, intendo un po' rappresentare anche il fogliano secco, quindi comunque colori molto funnali, dall'arancione al marrone. Opera d'arte. Sì. 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 Grazie. Grazie. Di classe. Sì, sì. Sì, sì. Grazie. 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 Grazie.